Comiso è uno dei tre comuni ragusani chiamati al voto in primavera per il rinnovo di sindaco, giunta e consiglio comunale e il primo cittadino uscente, Filippo Spataro, l'intenzione di mettersi a disposizione del partito per la ricandidatura l'aveva data già molto tempo fa. Oggi il PD, con una nota firma del segretario Biagio Taranto, diramata al termine dell'incontro svoltosi ieri, ha accolto positivamente la proposta e a conferma del proprio giudizio positivo sull'attività amministrativa di questi cinque anni ha confermato il sostegno a Spataro affinché possa tentare una nuova scalata a Palazzo di Città. In una lunga nota si elencano i tanti obiettivi centrati dalla Giunta a dimostrazione di un lavoro che vale la pena non interrompere, dalla fuoriuscita dal dissesto finanziario alla tutela del lavoro con la stabilizzazione dei precari, dall'approvazione del piano regolatore generale allo sviluppo di tutti i servizi alla persona, dal supporto alle scuole all'avvio di una nuova stagione di opere pubbliche e manutenzioni urbane, fino al potenziamento del sistema di raccolta dei rifiuti e all'innovazione digitale. Straordinari i risultati in campo culturale che rappresentano un fiore all'occhiello della nostra città, si legge ancora nella nota del PD, come anche l'impegno mantenuto circa la riduzione e l'ottimizzazione del sistema dei parcheggi a pagamento e la capacità di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che hanno garantito anche alcune importanti opportunità occupazionali. Alla luce dei risultati ottenuti che hanno portato fuori dal tunnel la nostra comunità, il direttivo, si legge nella nota, ha approvato all'unanimità e con grande entusiasmo la ricandidatura di Filippo Spataro a sindaco per le amministrative 2018. Spataro, presente e commosso, ha ringraziato i presenti, assicurando la prosecuzione di un profilo aperto al dialogo, partecipativo, contemporaneo e condiviso, incentrato sull'eleganza, l'umiltà e la disponibilità. Chi cerca polemiche troverà risposte, ha detto, chi offre arroganza troverà umiltà. Questa è l'idea della comunità che mi sono fatto, attenta e solidale, che vuole essere coinvolta e ascoltata. Queste sono le proposte che porterò alla coalizione e ai nostri amici alleati. Il partito subisce così una frattura. Proprio questa mattina, infatti, l'ex parlamentare Pippo Di Giacomo ha comunicato l'intenzione di ricandidarsi a sindaco della città. Sto pensando di scendere in campo per comiso, mio grande amore ha scritto e ho informato di ciò il segretario comunale, provinciale e regionale del mio partito, mettendomi a disposizione per ogni adempimento. Ora ascoltiamo la città. Gli obiettivi? Grandi progetti, lavoro, cultura, bellezza. Quelle cose che hanno segnato un momento importante per la storia di comiso, momento che deve ritornare. L'alba, scrive Di Giacomo, sta per cominciare.